Il trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ferrovia. Il segnale della RAI è dunque TGR Piemonte nelle aree di montagna. Ora c'è una mappa realizzata interpellando i comuni. Lo studio è stato presentato dal Corecom. Davide Piriocos. Un lungo lavoro, 423 comuni coinvolti, 1.160.000 cittadini interessati. Il Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, ha prodotto uno studio da cui risulta che nelle aree montane e collinari il 19% dei televisori non riceve il segnale della TGR Piemonte. Un problema grave, non facile da risolvere. Il 19% è un dato, se vogliamo pensare, anche grave. L'informazione locale è fondamentale per i piccoli comuni e per i comuni montani. Perché sono proprio la tipologia di informazione che parla di sé. Bisogna che regioni, città metropolitane, comuni e province predispongono un piano assieme naturalmente anche al governo nazionale che è responsabile di questi strumenti per risolvere questo problema non più sostenibile. Con l'avvio tra due anni del 5G per la telefonia, per i ripetitori si profila una nuova rivoluzione. Sicuramente tutta la Banta 700 si dovrà spostare, verrà dedicata al 5G, è un momento di transizione digitale fondamentale che porterà un vantaggio sicuramente per gli operatori della telefonia, ma ha tanti disservizi, tanti problemi al mondo della televisione. Stiamo in Italia facendo delle reti molto performanti, ma molto critiche, e lo stiamo facendo, e quindi creano anche questi problemi di cui stiamo parlando, e lo stiamo facendo perché in Italia ci sono poche frequenze rispetto ai pretendenti. Nonostante le difficoltà, gli interventi sul nuovo digitale sono l'occasione per migliorare la ricezione del segnale regionale. Alla caffetteria del Tribunale di Torino Grazie. Grazie. Grazie.